Quello che tutti in casa Napoli temevano ha trovato conferma. Lorenzo Insigne si è rotto il crociato anteriore del ginocchio destro. Questa è la diagnosi sull'infortunio occorso all'attaccante durante la partita contro la Fiorentina Alfranchi. L'Azzurro, accompagnato a Roma dalla moglie, dai genitori e da un fratello, è stato operato a Roma dal professor Pierpaolo Mariani a Villa Stewart. L'intervento, durato un'ora e un quarto, è perfettamente riuscito. Insigne dovrà ora osservare un lungo stop che, secondo il medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola, sarà nell'ordine dei 4-6 mesi. Anche se, per una più attenta analisi, bisognerà aspettare il decorso post-operatorio. Noi abbiamo già collaudato, purtroppo, questo tipo di problema perché lo scorso anno abbiamo avuto lo stesso con Mesto e Rafael. Sono molto fiducioso, Lorenzo è forte, è un grande professionista, perché sa fare una vita sana, è un grande lavoratore e non si tira mai indietro. L'ho visto sereno dopo l'infortunio, è forte e credo che da questa esperienza possa uscire ancora più fortificato dentro. L'intervento, ha concluso De Nicola, ci garantisce un recupero totale. Grazie. Grazie.